salve a tutti salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo tg del gruppo 2881 iniziamo con una prima notizia che riguarda sempre le tematiche orologi utilizzati dai militari in questo caso in vietnam e nello specifico dai soggar guardate qui abbiamo chiaramente un militare siamo in vietnam l'autore di questo avvistamento su instagram peraltro la pagina è quella di watch of explanation dice che è una foto del dicembre del 71 marzo 72 adesso lui la inquadra in questa fascia temporale comunque che orologio ha un selco con tutta la verità a questo a questo orologio qua un 5 sportsmatic un 66 19 80 60 ora noi sappiamo e qui mi ricollego alla alla tematica dei mac v sound degli orologi utilizzati nel caso utilizziamo questo termine che non è corretto quello di assegnati non sono assegnazioni anzi non dovevano essere assegnati lo scopo proprio dell'acquisto di orologi tra virgolette non riportanti indicazioni tipiche delle assegnazioni era quello di impedire che in caso di cattura il militare fosse ricondotto alle forze armate americane ok ora voi sapete che gli orologi utilizzati dai mac i6 utilizzati dalla mac vsoc erano in sostanza sono in sostanza tre referenze la 66 19 80 60 che abbiamo visto la 75 80 30 che è questa però con quadrante nero e la 61 19 80 1000 che è molto simile a questa ok allora diciamo che in questo diciamo in questa materia le segnalazioni riguardanti l'utilizzo da chi provengono l'utilizzo dai secco dai dai veterani e tutto è emerso grazie a che cosa a libri interviste e articoli pubblicati in seguito a interviste sostanzialmente fatte ai veterani ai militari che effettivamente facevano parte di questo corpo speciale il mac vsoc ora è interessante perché a questo link questo link a questo profilo watch of espionage poi si ricollega anche una pagina diciamo sul web che riporta articoli interviste ai ai militari del mac vsoc ora tra queste c'è un'intervista che è stata pubblicata verso la fine del 2022 dalla quale si vince che c'è un'altra referenza utilizzata dai mac vsoc e chi ce lo dice tanto guardate il titolo è questo qua vienna mac vsoc chiarire le cose cioè fa un chiarimento su quelle che sono le referenze utilizzate ok oltre a quelle che vi ho appena detto ce n'è un'altra adesso ve la dirò però è interessante notare guardate qua ci sono varie foto di militari vedete del reparto del reparto speciale anche qua guardate altre foto ora è interessante perché qui chi si intervista beh allora l'intervista è diciamo abbastanza complessa articolata però a un certo punto viene citato questo signor che è importante ai nostri fini conrad ben baker chi è ora questo signore in sostanza è colui che gestiva l'ufficio approvvigionamento dell'equipaggiamento dei mac vsoc quindi in sostanza se vogliamo è colui che faceva gli acquisti di questi orologi anche no anche degli orologi che poi venivano forniti consegnati a questi a questi militari è interessante perché vi faccio vedere anche una foto di questo viene lui viene definito il mister q del mac vsoc ecco guardate qui c'è lui becker con il suo 7580 30 che è questo però col quadrante nero e becker nel descrivere quello che faceva per un ufficio specifico che era appunto l'ufficio che approvvigionava il mac vsoc questo ufficio si chiama ciso chiaramente in inglese si pronuncia in altro modo però è counter insurgency support office ecco questo ufficio faceva gli acquisti ora voi sapete come diciamo sempre questi acquisti vedevano fatti pensando alle attività anche diciamo svolte dai militari oltre le linee quindi operazioni di intelligence di acquisizione di informazioni questi militari non dovevano essere ricondotti alla all'esercito americano quindi utilizzavano materiali potremmo definire neutri ok quindi benissimo i seco che erano molto diffusi in quell'area del mondo in estremo oriente in quel momento infatti becker ci dice acquistai i seco perché costavano poco ed erano affidabili e non erano riconducibili all'esercito americano ci dice anche questo è bello dice anche i militari volevano i rolex perché rolex comunque aveva sicuramente una fama già importante allora soprattutto per i diver e poi tra l'altro voi sapete che certe referenze erano state assegnate a dei reparti speciali certe referenze però becker feceva una valutazione sia di natura economica il seco costava molto meno evidentemente aveva un basis limitato e poi anche di natura come posso dire tecnica cioè lui disse un rolex poteva essere ricondotto magari anche se neutro non assegnato agli stati uniti o all'esercito americano o comunque ad un occidentale mentre un seco no molto meno quindi fece anche questo tipo di valutazione quindi acquistò il queste referenze che erano sul mercato con quelle specifiche che abbiamo già indicato nell'apposito blog e tra quelle acquistate ne emerge una che normalmente non viene indicata come una referenza utilizzata dai microsoft che è questa è il 6106 81000 questo è un orologio che voi sapete essere uscito nel 68 quasi in contemporanea se vogliamo con i diver con il diver che gli assomiglia che è il 6105 8000 cassa cassa tonno ok io ne ho due perché a me piace molto questo è diciamo quindi se lo potremmo definire così uno skin diver ha infatti una ghiera che in questo caso è bidirezionale non ha la corona vita però il 6106 è un calibro buono di buona qualità che ha anche l'ha che quindi ha il fermo macchina e voi sapete che per i militari in certe certe operazioni l'h può essere utile veniva utilizzato dai militari quindi aggiungiamo alla lista degli orologi utilizzati dai militari del microsoft anche questo orologio qua ecco ce lo dice appunto il mister q del del microsoft e a questo punto chi ce l'ha questo orologio è fortunato perché come è già diciamo un orologio abbastanza potato sul mercato quando si diffonderà ancora di più la notizia che ha utilizzato probabilmente le quotazioni saliranno si creerà la solita bollo quindi vi consiglio di acquistarlo prima possibile e passiamo invece ad una seconda ed interessantissima notizia ora questa notizia mi è stata sostanzialmente fornita da una persona che è un appassionato secco che ha un profilo in instagram e quant'altro e mi ha fornito questa questa notizia e lo saluto si chiama gianandrea maria guardate allora lui mi ha mandato la foto poi dopo io l'ho tirata giù anche dal web di questo album a un disco un vinile dovrebbe essere della fine degli anni 60 guardate compare un un secco chiaramente un world time della serie 61 17 questo è un 61-60-10 o 60-19 per il mercato americano è probabile che sia un 60-19 perché perché questo è la copertina di un disco che è stato emesso negli stati uniti e chi è la diciamo l'autore l'autore questo lorence velche il titolo del disco è as time goes by si può trovare anche il doppio dove c'è la stessa un doppio cioè un altro album con due vinili uno è quello appunto di cui stiamo parlando ora as time goes by è il light motive del noto film casa casa blanca anzi è il light motive di quel film che ha reso famoso questo questo pezzo ok proprio perché viene cantato suonato dal se vi ricordate dal dal pianista nero durante il film ok ecco lo roge questo guardate world time ore del mondo allora che cosa questo avvistamento possiamo chiamarlo avvistamento anche questo che cosa ci dice beh ci dice che il il secco alla fine degli anni 60 erano molto presenti sul mercato diciamo pure che alla fine degli anni 60 68 ma più 69 probabilmente quello è un album del 69 è molto probabile adesso non ho indagato su quando fu pubblicato però voi sapete che nel 69 seico fa fa un passo in avanti dal punto di vista sia del prodotto che della presenza sul mercato perché lancia il 61 39 primi cronografi automatici presenti sul mercato lancia il primo quarto alla fine del 69 astro e quindi c'è un un importante azione anche di marketing da parte di seico nel 69 quindi siamo in quel periodo lì è un periodo molto importante per l'azienda giapponese si lancia sul mondo proprio si fa conoscere ancora di più questo world time era un ottimo orologio ne aveva già fatti altri però questo 61 17 è molto molto è un bellissimo orologio sono orologi di qualità e sono gli orologi che utilizzavano le persone che giravano che prendevano gli aerei che comunque si spostavano da una nazione all'altra uomini anche ad affari o comunque se vogliamo testimonia questa questa foto l'utilizzo di questo orologio sulla copertina ecco testimonia che cosa è fatto che oltre a questa grande presenza si vuole dare l'idea questa grande presenza di seco sul mercato si vuole dare l'idea anche proprio del fatto che il tempo scorre as time goes by appunto significa che il tempo scorre che il tempo scorre ovunque su tutto il globo terraqueo ok quindi c'è forse questo doppio utilizzo no del da parte di chi ha elaborato la copertina dell'orologio ok vedete qui c'è il volto dello stesso lorence credo questo sia lorence velche che era ecco parliamo di lui perché interessate lorence velche è un show man americano è famoso oltre perché era un buon cantante proprio perché gestiva un programma credo televisivo dove appunto lui era lo show man è noto è famoso tra virgolette nel sistema chiaramente statunitense degli spettacoli degli show man è noto perché aveva un accento un po tedesco perché effettivamente è di origine tedesca è nato a strasburgo ma è nato in quell'area oggi lo sappiamo non è in germania ma al tempo lo era la stazia lorena la famiglia era tedesca quindi lui aveva un chiaro accento una chiara cadenza germanica nel suo inglese e i produttori americani gli dissero che se voleva gestire un programma doveva eliminare l'accento tedesco anche perché poi eravamo in quel periodo diciamo bellico ok in cui appunto essere tedeschi negli stati uniti non era non era il massimo quindi fu bravo ad eliminare il suo accento questa cadenza inglese con cadenza germanica questo è un aneddoto su velche e andiamo e andiamo avanti e andiamo avanti il è un periodo questo di vacanze un periodo in cui si va in vacanza e allora qualcuno si è si è detto quali orologi mi portano in vacanza ecco è un po una domanda che si fanno spesso gli youtuber no vedete cosa porto ho guardato recentemente un video in cui come youtube diceva se fossi un sub che cosa indosserei e il problema che lui non è un sub quindi non si capisce su che basi indica certi orologici quali basi pratiche professionali tecniche indica se non è un sub vabbè andiamo avanti però quali orologi ci portiamo in vacanza ecco non è una domanda che vi rivolgo è la domanda che si è posta marco bracca in un piccolo video che ha mandato in onda ecco lui si porta otto orologi in vacanza quindi 8 orologi e guarda caso sono tutti orologi micro brand quindi in vacanza oggi nel 2024 si va con otto orologi e quantomeno orologi di micro brand possibilmente preferibilmente italiani queste sono le indicazioni ci provengono da youtube e con questo vi saluto e vi rimando al prossimo tg ricordandovi che forse sarà anche aperta una rubrica nuova adesso lo stiamo valutando si chiama la rubrica vite al limite di youtube parleremo di argomenti persone un po alla alla agli estremi poi marginate da youtube che urlano un po la loro urlano il loro la loro presenza vogliono vogliono farsi notare di costi però secondo me lo fanno anzi fanno emergere un certo problema relazionale bene con questo chiudiamo il nostro tg dicendo evalve il vero